La Lilli oggi, che è un giorno speciale perché è il compleanno di Auri, è diventata una ragazza. Lei è diventata una ragazza oggi? Ma complimenti, ti ho dato l'ossino perché va festeggiato questo evento. Adesso la mamma ti deve andare a prendere i pannolini, altro che. Ma lei è una ragazza, una signorina, ciao! E per questo giorno importante, visto che me lo chiedete spesso, vi faccio vedere come mi truccherò con grande gioia, con questo bellissimo box, quella special edition di Goofy. Ta-da! Un bellissimo regalo per Natale, ma potete anche prenderli sfusi questi prodotti. C'è il mascara, la nostra palette che dentro ha il bronze per le guance, un bellissimo blush peach, l'illuminante e tutti questi bellissimi ombretti gioiello. Due rossetti che vi farò vedere, le mollettine per non avere i capelli in mezzo. E vai, adesso vi faccio un piccolo reel per farvi vedere come ci si trucca da Dio. Grazie a tutti.